ciao a tutti eccoci in questo nuovo video di pokemon go oggi siamo qui questo nuovo video di pokemon go per far vedere tutta la mia squadra i miei bei pokemon iniziamo cioè vi faccio prima vedere così poi vedrete meglio iniziamo da lui vaporion 1426 xl le mosse fanno schifo sono pistolacqua e tropons però comunque è forte secondo me e se andiamo il suo verso poi abbiamo nido queen trovato per caso avveno in puntore e pietra taglio queste sue mosse sono buone invece e sentiamo sempre il suo verso e andiamo poi con questo clay fable cozzata gen cozzata zen e magi brillo tra poco me ne posso fare uno più grande vedere uno più forte perché vi faccio vedere il mio clefairy che ho ok anche lui è forte jolteon questo ha avuto ieri a 1128 cioè tuono shock e fulmine buone come l'osso secondo me e sentiamo pure di questo verso di clefairy ecco magmar 998 colpo karate e fuoco pugno ok sentiamo pure bellissimo 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 lì bellissimo lì bellissimo matt 9 e 58 attacco dalla terra e salto fanno schifo le mosse però al 9 e 59 in pij8 è forte e poi questo bel gol bat non scherzo fa schifo che col bat fanno schifo infatti pure le mosse fanno schifo attacco dal furesto vento 8,68 e peso XS altezza XS Koldak confusione e idropompa questo è fortissimo all'8,45 Flareon che non ne riesco più a tenere uno però questa è una bestia con braccio di fuoco bomba XS poi andiamo a Pinsir 8,16 Spacca rocce e presa fanno schifo pure le mosse però all'8,16 Arbok 7,90 Morse nero occulsa fanno schifo le mosse va bene XS XS Sea King Beccate Gravita Giravita 50 le mosse pur lui non mi piacciono le XS King King Ferratiglia e forbice X fanno un po' di tutti schifo le mosse ed XS Paraset Paraset è riuscito a ottenere ieri a 7,24 con taglio furio e forbice X fuori lui XS o XL XL Firo bellissimo a 7,10 con alacciaio e gira vita bello pure il suo messo reddit che possiamo lasciare stare poli mill al 6,59 con che mosse colpo di fango idrovampata idrovampata quanto toglie? 55 bene hitmonchan trovato a caso pure lui pugno scarica e tono pugno fanno schifo le mosse però è XL andiamo gloom no va bene non mi piace lo metto 3 preferiti così no no poi andiamo ah il cleferi che lo devo fare il 5,78 verrebbe una bestia quello c'ha pure forza lunare 85 se li rimane proprio starmi ne potrei uscire più forte però gemmo forza azione che non è sono né acqua né psico credo e lui dovrebbe essere così però ed è XS pg8 vabbè è dragonite fa un po' schifo però fa un po' schifo per il livello però c'ha dragospiro e per raggio quindi è fortissimo pesa 201 chili ed è alto 2 metri bello questo bear sprout che poi quando lo faccio evo viene una bestia poi ezecut magari se me ne capita qualcuno in più confusione e forza antica così faccio un bel ezecutor benot fa schifo whipy mel bonita beh magari se me ne da un po' di più charmender vedete qui 16 caramelle mi manca poco poi venusaur fortissimo venusaur a45 è stato il mio primo pokemon forte che ho trovato hitmonlee nel nuovo da 10 km spaccarò il cio pestone e poi abbiamo questo bel bulbasaur pure 23 caramelle quindi mi farò un nivisaur che verrà abbastanza forte e poi vediamo kyubon 400 rayon tangela slowpoke squirtle 19 manca poco vatti farò un episodio dedicato solo all'evoluzione degli starter poi diventa più questo quando grida ok doduo ghastly chensei quanti ps c'ha è fortissimo c'ha pure psichico ecco satazen drausi che viene hitmon che è forte con pokemon dodrio geodude vulpix vabbè che me ne vengono tanti ho venomoth butterfree che fa schifo però va bene e magikarp 77 caramelle e questi sono tutti i miei bei pokemon uova 2.6 1.3 1.3 ora se ne vedete di più di incubatrice perché l'ho salito al livello 20 bellissimo e borsa 2 fortune 1 roma 1 l'ho già usato ieri 39 pokeball 59 megawall 20 ultra modulesca usato ieri un altro baccalano 62 fotocamere incubatrice incubatrice vabbè ok quindi se vi è piaciuto questo nuovo video di pokemon go in cui faccio vedere tutta la mia squadra tutti i miei pokemon iscrivetevi e lasciate un like ci vediamo ciao a tutti